Confagricoltura Brescia è una grande organizzazione, come dimostrano i nostri numeri. 3.258 fascicoli gestiti dal nostro CA, 2.177 domande PAC nel 2023 per un importo di circa 20 milioni di euro e oltre 557 domande presentate per le diverse misure del PSR. Le aziende agricole nostre associate conducono oltre 60.000 ettari di superficie agricola a cui si aggiungono 521 allevamenti da latte, 224 allevamenti sui nicoli, 226 allevamenti bovini da carne, 159 allevamenti avicoli, 114 agriturismi. Nel settore vitivinicolo i nostri soci gestiscono più di 1.800 ettari di vigneti a cui si affiancano 129 cantine tra le più prestigiose della nostra provincia. I soci di Confagricoltura Brescia sono attivamente impegnati nella sostenibilità e nell'innovazione. Circa 100 aziende associate hanno portato avanti importanti investimenti in beni strumentali ordinari e 4.0 per un totale di un milione di euro. Inoltre sono state presentate 32 domande per la nuova Sabatini per investimenti di quasi 5 milioni di euro, con un contributo erogato di 450.000 euro. La produzione di energia rinnovabile è in continuo aumento. Il settore primario apporta un fondamentale contributo al comparto con la produzione di biogas. Brescia ricopre un ruolo da protagonista, con oltre 100 impianti e più di 56 megawatt installati. Alle imprese associate, l'organizzazione garantisce servizi e consulenze professionali. Fisco, contabilità per più di 2.000 aziende e oltre 300.000 fatture e più di 5.000 dichiarativi. Gestione del personale, buste paga per 4.000 dipendenti assunti da 800 imprese. Assistenza tecnica settore ambientale, 576 aziende per le comunicazioni nitrati, 43 autorizzazioni integrati ambientali, 33 aziende per la tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari, 150 autorizzazioni emissioni in atmosfera. Servizi per la gestione del rischio, grazie al lavoro del Consorzio Agridifesa Italia, nato dalla volontà di Confagricoltura Brescia. Il valore assicurato dai soci nel 2023 è cresciuto del 16%, con un valore assicurato di oltre 400 milioni di euro. Supporto legale e formazione, con oltre 50 corsi organizzati e più di 1.300 persone formate. L'agricoltura oggi è al tempo stesso forte e fragile. Ha bisogno di un lavoro intenso, di compattezza, della visione strategica che Confagricoltura Brescia mette da oltre 100 anni nel fare impresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.